Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Rainbow Six Siege vi mostrerò un nuovo glitch spot nella mappa confine con l'operatore di difesa. Glitch spot che vi permette di andare qui come potete vedere e quindi nascondervi al meglio dai vostri nemici. Dovete collocare lo scudo in questa stanza in questo modo dopodiché avvicinarvi allo scudo guardare qui vicino questa sorta di motore e premere il pulsante per scavalcare. Come vedete potete nascondervi qui dietro in modo da cogliere impreparati sia i nemici che entrano da quella direzione che quelli che entrano dalla finestra e che i gnari della vostra presenza proseguiranno dritti verso quella stanza. Grazie a tutti.